L'Italo-Argentino del Curto è il nuovo pivò della Pallamano-Aretusa. Gino del Curto, 28 anni, Italo-Argentino è il nuovo pivò della Pallamano-Aretusa. Il giocatore classe 93 è stato ufficializzato dal suo delizio del presidente Placido Villari e esordirà domani in occasione della seconda gara di ritorno della Serie B maschile contro lo Scicli. Del Curto proviene dal Parma, formazione che milita in Serie A2, dove ha disputato la prima parte di stagione. In precedenza il pivò Italo-Argentino aveva maturato esperienze nell'Handball Club Estudiantes di Bahia Blanca nel torneo Associación Bahiense de Handball, società dove Del Curto si è formato fin dagli inizi della sua carriera e dove prima dell'arrivo in Italia aveva anche svolto il doppio ruolo di allenatore essendo abilitato in qualità di tecnico federale. Del Curto ha infatti già allenato l'Under 20 maschile e femminile e anche la prima squadra delle Studiantes. L'atleta si è detto felice di iniziare questa nuova avventura con la palla a mano con l'obiettivo di gara del Pivò di provare a conquistare la Serie A2 e proseguire l'avventura qui anche il prossimo anno perché qui si lavora in modo professionale e serio e cercherò di dare il mio contributo.